E' stato presentato nella Sala Verde della città della regionale Iole Santelli il programma della 41esima edizione del Festival della Canzone Arbaresch che si terrà a San Demetrio Corone, capitale dell'Arberia, il 10, l'11 e il 12 agosto 2023. In conferenza stampa, tra gli altri, il primo cittadino di San Demetrio Corone, il resto Madeo, consigliere comunale con delega al Festival Emanuele D'Amico, il direttore artistico del Festival, il consigliere regionale delegato ai rapporti tra il Consiglio regionale della Calabria e le comunità Arbaresch Pasqualina Straface. La più bella comunità d'Italia, l'Arberia. Le nostre due signorine che portano il costume tradizionale, questo costume ha mezzo secolo di storia e noi con il nostro Festival della canzone Arbaresch da oggi è partita un'altra grande avventura. E quindi attraverso il Festival noi vogliamo comunicare i momenti importanti della nostra storia, di quello che hanno rappresentato, di quello che rappresentano il popolo Arbaresch sia in Calabria che fuori Calabria e attraverso il Festival vogliamo comunicare la nostra identità. Vogliamo in tutti i modi salvaguardare la nostra lingua, vogliamo in tutti i modi salvaguardare le nostre tradizioni. Il Festival ci darà questa opportunità di comunicarlo non solo nel territorio calabrese, nei paesi Arbaresch, in Italia ma anche all'estero. Un Festival che vuole rappresentare un momento molto importante, la narrazione di un popolo che rappresenta uno dei patrimoni più importanti da un punto di vista culturale, storico e identitario della nostra regione Calabria. Un popolo ricco appunto di tradizioni, di identità, con la sua lingua che deve essere necessariamente valorizzata. Grazie all'intervento dell'assessore alla cultura, Giuseppe Pringi, nei prossimi giorni firmeremo un protocollo di intesa con l'USR per far conoscere la lingua, le tradizioni, i costumi in tutte le istituzioni scolastiche. Un Festival netto nel 1980 dall'intuizione dell'avvocato Giuseppe D'Amico che lo ideò per apportare nuova linfa alla lingua Arbaresch. Nelle precedenti 40 edizioni ha prodotto più di 600 canzoni inedite provenienti da autori italiani ed esteri. Quest'anno a presentare sul palco la rassegna dei brani e gli ospiti sarà l'attore comico Paolo Conticini coadiuvato nella conduzione da Giulia Lattarico. 20 le canzoni in gara, rigorosamente inedite e in lingua Arbaresch, rese ancora più belle dall'accompagnamento musicale da un'orchestra sinfonica di 28 elementi. Altri due importanti momenti di promozione della cultura Arbaresch sono rappresentati dal talk di giovedì 11 agosto e poi dallo spettacolo del concerto di Shade, un appuntamento rivolto ai giovanissimi per avvicinare le giovani generazioni e far scoprire loro le bellezze di una località storica come quella di San Demetrio Corone. E poi ancora spettacolo con musiche e danze l'11 agosto con il corteo di gruppi provenienti da aree della Calabria e di regioni italiane ma soprattutto dall'Albania, dalla Grecia, dal Kosovo e dalla Macedonia del Nord.